Chi è? Salve, ho trovato una borsa che credo sia di gratidegg. Oh, molte grazie, cara. Gradiresti un caffè? Non ricevo tante visite. Sono sola da quando mia figlia è andata via. Dove sono le candele? Nel mobiletto. Le hai trovate? Cosa? Credo che lasci i borsi in giro per la città, sperando che qualcuno gliele riporti. Ho visto le borse, Greta. Perché lo stai facendo? È fantastico. Salve, sono Frances e sarò la sua cameriera. No, non è possibile. Sei una bambina. No, sei tu la bambina e hai bisogno di una madre. Nenti azzardare a parlarmi di mia madre. Doveva morire perché io ci incontrassimo. Sei fuori di testa. Guardatela, non ha superato il lutto. Se ne è andata, Frances! Tutti hanno bisogno di un'amica. Ma noi siamo più che amiche. Siamo connesse. Tu sei pazza? Che cosa hai fatto? Ora prova a sbarazzarti di Greta.